Ciao ragazzi, allora oggi video spacchettamento di un regalino, di un cadeau che mi ha voluto fare omaggiare l'amica, la mia amica Katie del canale, ed è Katie, canale di coppia. Mi ha omaggiato di questo piccolo cadeau perché ho vinto a una sua challenge, dovevo interpretare in modo simpatico la canzone Pelame di Cristiano Malgioglio. Ho mandato il video a Katie, l'ha caricato sul suo canale YouTube, mi raccomando datelo a vedere, vi metto il link qui sotto in descrizione, e ho vinto, ho vinto perché ho avuto tantissimi voti. Ed eccolo qua, il pacchetto è qua, è arrivato oggi e adesso lo aprirò qui con voi, ovviamente ho cancellato sia il nome e l'indirizzo di Katie che il mio, così per sicurezza. Apriamo. Allora, innanzitutto la scatolina rustica mi piace, mi piace. Mermi Creazione, grazie per aver scelto una delle mie creazioni by Katie. Qui sotto, ecco qui, abbiamo tutti i contatti sui, per contattare Katie, Katie Bertolucci Facebook, su Instagram iest Katie, YouTube ed è Katie. Qui c'è sotto il suo numero di cellulare, però non voglio mostrarvelo per il momento. Se volete fare degli ordini telefonici, contattate direttamente Katie. Allora, mi ha scritto, ti voglio un mondo di bene. Grazie Katie, io spero veramente che tu stia guardando questo video perché sono veramente contento. Mi piace la scatolina, già mi hai messo il cuore arcobalino e questo vuol dire molto per me. Tu sai della mia storia, ti ho raccontato che cosa mi è capitato e niente, mi stai dando tanto sostegno. Grazie Katie, ti voglio di bene anch'io. Per Daniel, eccolo qua. Adesso andiamo ad aprire. C'è anche un bigliettino, poi lo leggerò. Allora, sacchettino in organza e adesso la apriamo. Allora, no vabbè, è bellissimo. Cioè, guardate, ha ricreato letteralmente un arcobaleno con queste pietrine. Cioè, io adoro il pendente. No! Puccia! Grazie, il gatto! Ma questa qui è la mia luna! No, no, veramente! Grazie, Katie! Grazie, grazie, grazie! Guarda, non vedo l'ora di indossarlo. Perché è veramente, veramente speciale. Veramente, grazie, grazie, grazie. La domanda mia è, come hai fatto a prendere le misure del mio braccio? Boh, vediamo se riesco a metterlo su, senza fare troppi danni. Eccomi tornato. Eccomi tornato. Mi sono dovuto dare una mano a metterlo su perché non ci riuscivo. Allora, innanzitutto è morbido, perché ci sta giusto. Provo a farvi vedere la bellezza di questo bracciale che mi ha creato Katie. Poi con, scusate, eh, con questo galtino nero che mi ricorda molto la mia luna. Queste pietre colorate. Molto, molto, molto belle. Katie, sei veramente in gamba. Continua così con le tue creazioni perché sei veramente brava. Complimenti. Grazie, grazie, grazie. È quasi, guarda, questo qui lo terrò quasi come un portafortuna. Che dire, veramente, grazie, Katie. Grazie, grazie, grazie. Poi ho visto che dentro nella scatolina c'è ancora qualcosa. Cioè, no, un alto bracciale. No, è il... Cosa del cellulare, se non so come mi viene in mente. Che bello! Con l'orsetto! No, vabbè, guardate che bello. L'orsetto, anche queste pietre. Cioè, adoro. Può essere sul cellulare, ci sta. Però non ho la cover per... Per metterlo su quel gancetto. Mi sa che lo terrò qui davanti al computer come portafortuna. Ecco, questo sarà il mio portafortuna da casa. E questo fuori casa. Veramente, grazie, Katie. Grazie, grazie, grazie ancora. Andiamo un po'. Qua c'ho anche una letterina. Vediamo se posso leggerla oppure no. Sì, dai, la leggo perché è troppo carina. Allora. Ciao Dani, complimenti per aver vinto la challenge. Sono felice che hai vinto tu. Spero che il regalo non ti piacerà. Le pietre del bracciale sono quella dida e piada persiana. La rossa è oculite. Poi ti ho messo occhio di tigre. Giallo, blu e marrone amazzonite. Quella è azzurra. La verde agata inclinata. E naturalmente la pietra lo loira. Ecco tutto, ecco tutto amore. Spero che sia di tuo gradimento. Ti voglio tanto bene. Ti ho aggiunto un foam strip o portachiavi come preferisci. Solo per te. Ti lovo tesorino. E mi raccomando non abbattiti per quanto spesso la vita ci prende a pesce in faccia. Grazie Ketty, veramente grazie, grazie, grazie. Ti voglio bene. E niente. Spero un giorno di venirti a trovare. Finalmente nonostante noi ci conosciamo da molto tempo. Veramente grazie ancora per il bellissimo regalo. Ancora una volta. Grazie a Ketty. Mi raccomando il canale YouTube. E di Ketty canale di coppia. E' tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.